Presidente, quanto è importante uscire da quest'euro? Il più presto possibile magari anche? Credo che sia una dignità per i nostri territori, una valorizzazione delle nostre istanze, sia politiche prima di tutto, ma che noi crediamo in Europa dei popoli e non in Europa del dio euro. Per cui questo euro che ci ha massacrato le nostre imprese e le nostre famiglie, uscire da questo euro sicuramente è l'imperativo in questo momento per dare una nuova prospettiva di fiducia ai nostri cittadini nel concetto della nostra autonomia e della nostra indipendenza. Il popolo trevisano, il popolo veneto deve prevalere.